Grande attesa per la finale del GF VIP lunedì 7 novembre 2016. Chi sarà il triunfatore? A deciderlo sarà solo ed esclusivamente il pubblico da casa attraverso il televoto, in queste ore, però, il televoto in corso non è ancora quello per decretare il vincitore assoluto del reality, visto che lunedì sera ci sarà prima l'ultima nomination tra Laura Freddi e Gabriele Rossi, al termine della quale scopriremo il nome del quarto finalista di questa edizione. A quel punto la presentatrice Hilary Blasi aprirà il televoto finale tra i quattro concorrenti e al termine della serata scopriremo chi si porterà a casa il premio finale messo in palio dalla produzione di ben 100.000 euro, di cui, però, la metà andrà devoluta ad un'associazione benefica. C'è però uno scoop, Nina Morich sa chi trionferà al grande fratello VIP. L'aveva già anticipato, adesso lo ha ribadito, quando il reality ha avuto inizio, la showgirl ha affermato, sarò io a decidere chi vincerà. Adesso, ha fatto nome e cognome, mi sa che sto GF VIP lo vince Laura Freddi. Un pronostico fatto sempre nel suo stile, che non risparmia frecciatine. Alcuni fan sono d'accordo con lei, l'ho pensato anch'io, un utente scrive, Laura non litiga, non parla, non scherza, non urla, non flerta. Mi sa che voleva farsi due mesi di vitto e alloggio gratis. Secondo qualcun altro, invece, non dovrebbe vincere lei, non mi è piaciuto il percorso nella casa del GF VIP di Laura Freddi, non si è mai pronunciata, sempre integerrima, non credo che lo vinca lei, per me non se lo merita. Grazie. Grazie.